Sono state scoperte le carte sulla 44esima edizione del Rossini Opera Festival, che si terrà a Pesaro dall'11 al 23 agosto tra le cornici del Teatro Rossini, Teatro Sperimentale e Vitrifrigo Arena. Il progetto di eseguire brani poco conosciuti ha forgiato anche questo ROF 2023, che vedrà la sua inaugurazione nell'ampio spazio dell'astronave con la prima moderna di Edoardo e Cristina, la 39esima opera del catalogo operistico rossiniano. Rulano i tamburi per un'edizione di grande attesa, soprattutto per il titolo inedito, Edoardo e Cristina, che verrà presentato per la prima volta in edizione critica in epoca contemporanea, quindi in perfetta linea con quello che è la tradizione del Festival di presentare soprattutto opere meno conosciute, così come fuori dai circuiti più convenzionali sono gli altri due titoli che presentiamo in cartellone, Aureliano in Palmiro, una ripresa di Mario Martone, presentata già al Festival qualche anno fa, e anche la nuova produzione di Adelaide di Borgogna, quindi tre titoli che sicuramente vanno incontro ai gusti, alle esigenze del nostro pubblico più affezionato che sa di trovare a Pesaro qualche cosa di veramente unico e ricercato. Il programma è sempre ricco, oltre alle tre produzioni c'è il consueto appuntamento con il Viaggio a Remis, con i ragazzi dell'Accademia impegnati in quella che è una delle opere iconiche del nostro Festival, più ricco programma di concerti che prevede anche due appuntamenti particolarmente importanti, come la cantata Malibrane e la conclusione del Festival con la Petite Messe Solennelle, diretta dal maestro Mariotti per una conclusione veramente straordinaria. Vi presenterà per la prima volta qui al Rofel la cantata in onore di Pio Nono, bellissima cantata che la Fondazione Rossini aveva già preparato l'edizione critica, infatti nel 98 l'abbiamo cantata a Juan Diego Flores e io all'Accademia di Santa Cecilia. Ecco, questa è una e poi l'altra è la cantata la Malibran, che sarà una prima mondiale dopo che si fece nell'Ottocento alla scala.